Nel mercato valutario si torna a comprare dollari? Cosa fare con gli indici di borsa e con le azioni italiane ed americane? Vediamo cosa ci dicono i protagonisti di House of Trading. Sì, guarda, io oggi in realtà è un trade che richiederà tempo perché i livelli di ingresso li ho messi un po' lontani. Allora, ho fatto questa operazione sui ultimi massimi di petrolio, è andata molto bene e ho visto un principio di configurazione ribassista che però ha bisogno di conferme. Vi spiego la natura del trade ovviamente e quella di dargli un po' di tempo perché in realtà il livello di ingresso è un po' basso ma è stato studiato molto bene perché l'idea del trade è andare a prendere uno short in accelerazione sul petrolio se dovesse poi andare a rompere. Il livello di ingresso è stato calcolato in area 71, praticamente da questo livello in poi sono entrati gli ultimi acquisti e ho visto che sotto questo livello in realtà il prezzo ha possibilità di poter andare oltre alcune zone, soprattutto area 70 dollari almeno dove ci sono tra gli acquisti più importanti dopo quel mitico rimbalzo di mezzanotte della scorsa settimana. L'idea è quella che in questo momento è vero, le paure della recessione sono un po' archiviate grazie ai tagli dell'OPEC ma l'idea è che comunque il petrolio è uno strumento che in realtà dai movimenti che sta facendo ha ancora possibilità di vedere l'obiettivo dei 50 dollari. Quindi secondo me il problema di fondo è che l'economia che comunque dovrà soffrire un rallentamento al di là poi dell'opinione di tutti gli analisti del mondo avrà comunque un impatto sul petrolio. Questo movimento comunque è stato molto intenso, non si discute, però sono fermamente convinto che dai valori attuali il petrolio deve effettuare almeno uno storno, visto che comunque ha toccato una resistenza chiave molto vicino all'area dei 75, per cui ritengo sia ampiamente possibile uno storno da quello che ho calcolato circa almeno 3 dollari, dai 68, in realtà il supporto è a 67, 68 sarebbe un bel livello dove arrivare. L'idea mia è di entrare short se domani effettivamente dovesse esserci un ulteriore imbalzo del dollaro che abbiamo visto oggi, l'idea è quella di andare a prendere qualche veloce pressione ribassista, cercare di arrivare ai 68 dollari, massimo a 67, rivedere un pullback in questa zona e poi da lì avremo un'idea chiara se i prezzi possono tornare a scendere o meno. Tecnicamente dovremmo aspettarci più un prezzo che oscillerà tra i 75 e i 67, almeno in questa prima fase, per cui è un trade diciamo un po' aggressivo, però ha tutta una logica che può funzionare molto bene se entrano sufficiente vendite sul petrolio dal livello che vi ho indicato. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading.